Per permesso Io sono un volontario, è andato dall'Irpina dell'Ottanta Essendo un abitante di Lione del 1980 Avevo 16 anni La sera io ero in casa con la famiglia Una volta si è stimato la mia famiglia Un centro abbastanza sicuro Tutta la notte ho scavato nelle macerie Per dare soccorso alla gente che aveva bisogno Io quella notte ho scavato sotto Mi sono infilato nelle macerie a scavare Per tutte le persone che gridavano aiuto Anche essendo inconsciente Di quello che stavo facendo in quel momento Però quella notte io sono diventato così Purtroppo non vi tirerò mai indietro In qualsiasi evento che succederà Anche per salvare un incidente stradale Purtroppo io sono fatto così Speriamo bene che in futuro Non ci sia bisogno Però con la mano di ciascuno Non ci sia bisogno di più Non ci sia bisogno di più Non ci sia bisogno di più Non ci sia bisogno di più